Agnese Collino, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E benvenuta davvero qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, l'incontro che lei avrà al CICAP Fest a Padova, venerdì 13 ottobre alle 10.30. Ricordo che Agnese Collino è biologa molecolare, supervisore scientifico alla Fondazione Umberto Veronesi. Si dedica alla divulgazione su temi di salute attraverso laboratori didattici, incontri con la cittadinanza e scrittura. Ora, torniamo un attimo, Agnese Collino, alla supervisione scientifica alla Fondazione Umberto Veronesi. In pratica, che fa questa supervisione? Di che cosa si occupa? È un termine un po' complesso per indicare più mansi. Per una materia complessa anche. Esatto, però cerchiamo di renderla più semplice possibile. Da un lato tengo i rapporti con i borsisti, i ricercatori finanziati dalla Fondazione che si occupa di sostenere la ricerca sul cancro e dall'altro controllo la correttezza di tutti i materiali di divulgazione e di informazione che la Fondazione produce e faccio io stessa molti di quei materiali che non sono solo materiali scritti, quindi quaderni, approfondimento articoli, ma soprattutto anche laboratori per le classi, incontri con la cittadinanza, approfondimenti in tv o sulla stampa. Insomma, cerchiamo un po' di giostrarci su tanti media diversi per raggiungere pubblici diversi e aiutarli a conoscere un po' meglio le tematiche della salute. Eh sì, anche perché poi quella che un tempo qualcuno inorridiva sentire è parlare, cioè citare la parola divulgazione. Questa parola è una parola straordinariamente importante. A proposito di C-Cup Fest, stiamo ricordando anche la figura di Piero Angela che a proposito di divulgazione ha saputo coniugare quel verbo nella maniera migliore in assoluto, creando un pubblico e forse la parola pubblico è persino un po' sbagliata, Agnese Collino, no? La parola pubblico è creando una comunità di attenzione, di pensiero, perché creare pubblico forse è molto semplice, no? Bastano gli ascolti. Piero Angela faceva uno scarto successivo, cosa ne pensa? Decisamente, anche perché Piero Angela ha un po' tracciato una via nuova in un periodo in cui l'Italia si affacciava proprio ai mezzi di comunicazione di massa di nuovo tipo e anche al far arrivare la scienza nelle case di tutti gli italiani, non solo quelli particolarmente interessati o istruiti. E lo ha fatto da uomo in partenza non di scienza, quindi da uomo che preveniva, diciamo, dall'umanesimo, se vogliamo, coniugando la capacità e anche l'interesse e la passione rispetto a materie scientifiche e spolverandole, diciamo, da questa specie di percezione pubblica comune di scienza come materia polverosa e anche pesantuccia, diciamocelo. Quindi ha fatto un po' scoprire per la prima volta agli italiani che non è così e che la scienza non solo è interessante ma fa anche parte della vita di tutti i giorni e lo ha fatto riuscendo a interessare tanti pubblici diversi, quindi dai bambini e dai ragazzini fino agli adulti e agli anziani. Quindi veramente è un po' una prepista, io sono contentissima di poterlo ricordare al CICAP Fest perché è un po' anche il motivo per cui io stessa ho iniziato questo lavoro. Lei tra l'altro, Agnese Collino, rischia di vincere il premio Galileo 2023 con il libro La malattia da dieci centesimi ed è un libro pubblicato dalla casa editrice torinese Codice, una casa scientifica per quello che riguarda il percorso editoriale e ci porta a una data molto precisa. Andiamo al 30 dicembre del 1911. Qualcuno scendeva per così dire in elicola a comprare il quotidiano, il Corriere della Sera e che cosa riportava quel quotidiano il 30 dicembre? Quel quotidiano riportava in un trafiletto piccolino piccolino, proprio nelle news di volata, l'apparire di una malattia misteriosa, diciamo di non ben chiare caratteristiche in un sobborgo dell'Inghilterra e si parlava appunto di questo morbo misterioso così era indicato nel trafiletto che faceva parecchia paura. Quella era la prima volta che la poliomielite, che è la malattia di cui mi occupo nel mio libro, faceva la comparsa su un quotidiano italiano e poi da lì ovviamente nel tempo purtroppo fino agli anni 50, 60 e anche oltre è diventata un ospite sempre più frequente ai miei nostri quotidiani e della radio e della tv. E la poliomielite divenne il grande nemico da sconfiggere perché era veramente un grande nemico e qui la scienza con i tempi di allora, che erano i tempi molto più lunghi rispetto adesso, la scienza bene o male ha saputo rispondere e in che modo? La scienza insomma si è data parecchio da fare direi su questa malattia anche perché era una malattia veramente misteriosa non solo diciamo a parole ma nei fatti nel senso che era una malattia molto antica che però guarda caso è iniziato a far parlare di sé solo a partire dagli inizi del Novecento perché è proprio da quell'epoca che è iniziato a provocare dei focolai veri e propri. Prima era particolarmente silente, quindi questo era già un primo aspetto che la scienza non sapeva bene spiegarsi e quindi ha iniziato a occuparsi di ricerca su questa malattia a partire veramente dall'inizio del Novecento in tutto il mondo e ha fatto un percorso, la ricerca su questa malattia, molto accidentato e anche molto lungo perché parliamo di un'epoca in cui ancora non c'erano neanche gli strumenti per osservarli i virus e per studiarli da un punto di vista molecolare, non si sapeva neanche ancora cosa fosse il DNA quindi veramente si è andati un po' a tentoni inizialmente ma devo dire che nonostante inciampi e anche diciamo qualche cattiveria se vogliamo tra i ricercatori che sono esseri umani e questo magari a volte sfugge, si è arrivati a un risultato fenomenale perché se oggi l'appoglio non la vediamo più in Italia e in tante altre parti del mondo è proprio a quel percorso accidentato che lo dobbiamo. E poi a quel tempo, sono i primi anni del Novecento, l'attenzione dei mezzi di stampa ha fatto sì anche che le persone venissero informate, questa è stata una prima grande attenzione se teniamo conto, paragonandola all'oggi, allora la stampa ha fatto un lavoro straordinario di divulgazione dell'informazione. Assolutamente, un po' in parte anche per la richiesta pressante del pubblico di sapere che cosa stava succedendo col diffondersi di questa malattia e che cosa si stava facendo nei laboratori di ricerca per cercare di porre un argine e di trovare soluzioni per difendersi perché all'epoca ovviamente non c'erano né vaccini né medicine contro la poliomielite e i farmaci ancora oggi non esistono e quindi c'era molta richiesta, si era nella congiuntura storica per cui appunto iniziavano ad esserci i televisori nelle famiglie delle persone, sicuramente c'erano già le radio, si arrivava a un periodo di sempre maggiore benessere per cui molti compravano i quotidiani e quindi era un po' un circolo virtuoso per cui più gente si affacciavano a questi mezzi e più gente chiedevano poi di conoscere gli avanzamenti della ricerca su questo fronte e devo dire di sì che effettivamente l'esposizione mediatica di questa malattia e del percorso di ricerca che è stato fatto è stata straordinaria per quell'epoca indubbiamente e io direi anche un po' nell'arco della storia perché oggi una cosa come quella che è successa per esempio per il covid per cui di giorno in giorno avevamo notizie fresche, l'abbiamo un po' sotto gli occhi anche nella memoria fresca ma negli anni 50 non era assolutamente scontato anche tenendo presente delle scarse conoscenze che mediamente i cittadini avevano da un punto di vista scientifico. La lotta all'apoglio ha generato innovazioni che ancora oggi fanno parte della nostra vita Agnese Collino, ad esempio che cosa? Esatto, sono tante quindi sono anche difficili da enumerarle tutte, per parlare diciamo delle principali se rimaniamo sul fronte medicale per esempio la terapia intensiva che appunto durante il covid ha avuto un ruolo così fondamentale è nata proprio durante un'epidemia molto grave di poliomielite a Copenaghen nel 1952 così come anche la riabilitazione, tutto il filone medicale della riabilitazione è nato proprio perché negli anni 50 ci siamo trovati con un alto numero di sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, meno mati ovviamente dal conflitto e un sempre maggiore numero di persone e soprattutto di bambini afflitti dagli esiti delle paralisi da poliomielite quindi c'era una necessità di imparare a restituire a queste persone più autonomia possibile ma le innovazioni di questo percorso non rimangono solo nell'ambito medicale ed è questo che mi interessava esplorare molto nel mio libro ma arrivano un po' a tutti gli strati della società per esempio la filantropia, la beneficenza è una di quelle che è cambiata più radicalmente durante questo percorso e se oggi tutti noi possiamo contribuire a una buona causa con anche solo un euro o pochi spiccioli con un sms solidale perché all'epoca qualcuno che raccoglieva fondi per la poliomielite diciamo negli anni 30 non potendosi più a rivolgere ai grandi ricchi dopo la crisi del 29 ha pensato bene di trasformare la beneficenza da un'azione pietosa dei più benestanti a un dovere civico sociale di tutti noi che siamo più fortunati verso chi non ha avuto questa fortuna nella vita e quindi poter contribuire tutti con quel poco che si ha ecco questi sono solo alcuni esempi di tutte le cose che questo questa storia ci ha lasciato e che tendiamo anche a dare un po' per scontate non ci ricordiamo più da dove arrivano io ricordo il libro la malattia da 10 centesimi libro di agnese collino mentre io ne approfitto di questa conversazione agnese collino perché lei mi deve ci deve dare un'informazione importantissima e so che ne ha la capacità i dati scientifici più che certi in che modo possiamo arrivare a cent'anni a cent'anni insomma dobbiamo lei lei ci racconta attraverso il libro i segreti dei centenari i consigli della scienza per vivere meglio più a lungo quindi un consiglio piccolo ce lo dica certo facciamo del nostro meglio scegliendo di giorno in giorno le cose più salutari e più giuste per noi poi certo ci vuole un pizzico di fortuna come sempre nella vita ma veramente nelle nostre mani abbiamo più potere di quello che pensiamo quindi cerchiamo di usarlo al meglio e questa mi sembra la cosa migliore più razionale al di là di pubblicità per esempio che si ascoltano che ti vogliono stravolgere la vita in senso positivo e bisogna vivere la vita nella maniera essere anche un po' accomodanti a volte questo non vuol dire stare sul divano tutto il giorno certamente ma agnese collino lei come mai si è lasciata affascinare dalla biologia ma allora devo dare una risposta un po' terra terra nel senso che io al liceo ho fatto liceo classico quindi anch'io partivo un po' dal lato più umanistico e dopo cinque anni diciamo ero nel periodo storico in cui in tv si trasmetteva iar medici in prima linea vedevo questi era un po' una delle prime serie medicali diciamo che che giravano in italia e vedevo queste persone che concitate cercavano di trovare una soluzione a problemi anche magari poco compresi lì per lì di queste di questi pazienti che si presentavano e dicevo per carità ho video interessante ma io vorrei fare qualcosa di veramente concreto utile alle persone che oggi stanno male quindi nonostante il mio background appunto di classicista ho fatto un po' un investimento provato a buttarmi fuori dalla mia comfort zone nell'ambito scientifico e devo dire che è stata una buona scelta per me e non tornerei indietro prima di salutarci agnese collino qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni allora devo dire che ne ho diversi uno di questi che ho appena finito di leggere è il maledetto di roberta fulci è un libro dedicato al dolore un altro argomento un po' come l'apoglio che potrebbe risultare non so come come dire un po' pauroso ecco per chi si avvicina alla copertina e dice ma io veramente voglio dedicarmi a un argomento che potrebbe essere così pesante anche un po' respingente ecco in realtà roberta è riuscito a renderlo anche molto leggero e a dare un senso un pochino a questa questa ricerca del perché esiste il dolore perché è sbagliato farne a meno comunque può darci dei problemi e quindi è un libro che ho apprezzato parecchio e l'ho appena concluso vediamo cosa poi porterò sul mio comodino nelle prossime settimane e tra l'altro ricordo roberta fulci è stata nostra ospite giusto nella giornata di ieri per il libro il maledetto avrà due incontri al chic up fest per analizzare quello che noi chiamiamo dolore ed entrare veramente dentro questa parola grazie davvero agnese collino e buon lavoro grazie a voi